Questa mattina con la Commissione Finanza Locale di Anci abbiamo avviato il lavoro per il confronto con il Governo sulla nuova legge di bilancio. Chiederemo rapidamente incontri con ministri e sottosegretari competenti, incontreremo anche le forze politiche e i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Abbiamo una piattaforma molto ricca che qui abbiamo condiviso, che ha al centro il tema del recupero di autonomia da parte degli enti locali, dei comuni in particolare, per contribuire a un rilancio degli investimenti, alla crescita del Paese, al rinnovamento, alla semplificazione e alla sburocratizzazione. Il nuovo Governo non potrà non considerare alcune priorità che già abbiamo elaborato nel tempo e che speriamo possano essere definite. Il debito, sicuramente una riforma della discussione che possa rendere possibile la possibilità per i comuni di avere ciò che è giusto e necessario incassare. La questione della spesa corrente che sta soffrendo fortissimo, fortissimamente, ma anche e soprattutto l'attivazione di norme, di semplificazione, che non hanno nessun costo e che possono invece migliorare la qualità e la possibilità di incidere direttamente nelle nostre società, nelle nostre comunità. Non ci vuole molto, non è solo una questione di denaro, ma di mentalità. Bisogna riacquisire una sana filosofia che veda nelle autonomie una leva per lo sviluppo del nostro Paese. Grazie a tutti.